Ciao a tutti, nel video di oggi vi parlerò degli alieni che vivono intorno a noi. No, non sto parlando degli omini verdi che vengono da Marte, ma delle specie aliene, ovvero specie di piante e animali che a causa delle attività umane si trovano a vivere al di fuori della loro area di distribuzione naturale. Le specie aliene sono conosciute con diversi nomi, vengono infatti chiamate specie alloctone, specie esotiche, specie non native o specie introdotte. Nel video di oggi vedrete le immagini di quelle specie aliene che possiamo più comunemente trovare nel nostro territorio. Alcune di queste specie aliene, quando arrivano in un nuovo ambiente, non riescono ad adattarsi e perciò non sopravvivono. Altre invece trovano le condizioni ideali per vivere e formare nuove popolazioni, diventando in molti casi delle vere e proprie minacce. Queste sono chiamate specie aliene invasive, che proprio come dei piccoli alieni invasori arrivano e conquistano tutto, con conseguenze per l'ambiente e per l'uomo. Queste specie risultano vincenti per diverse ragioni, non hanno competitori, sanno adattarsi ad ambienti differenti e sfruttare diverse risorse e inoltre hanno un alto potenziale riproduttivo. Le specie aliene invasive possono alterare gli ecosistemi e competere, predare o ibridarsi con le specie native, cioè le specie tipiche di quel territorio, causando quindi nel tempo la perdita di biodiversità. Hanno poi un impatto a livello economico, soprattutto in settori come l'agricoltura e anche sulla nostra salute. Ma come arrivano queste specie? Beh, il motore di tutto siamo noi umani, che introduciamo, quindi portiamo queste specie in nuovi territori, sia volontariamente, ad esempio per scopi commerciali, per la caccia, per la pesca o come animali da compagnia, oppure arrivano involontariamente, ad esempio quando durante i nostri viaggi possiamo accidentalmente dare loro un passaggio. Questo fenomeno si verifica ormai da secoli, ma negli ultimi decenni è cresciuto e sempre più specie aliene riescono ad arrivare e colonizzare il nostro territorio. Ognuno di noi può fare qualcosa per prevenire l'arrivo delle specie aliene. Possiamo infatti evitare di comprarle, allevarle o coltivarle e soprattutto non rilasciarle in natura e stare attenti quando viaggiamo a non portarle con noi. Infine cerchiamo di informare più persone possibili su questo problema. Nei prossimi video parleremo più in dettaglio di ciascuna specie aliene. Continuate dunque a seguirci!